Sapevate che nel Lazio esiste uno dei monasteri più belli al mondo? Il monastero di San Benedetto si trova a circa 10 km da Subbiaco, nella splendida Valle della Niene, anticamente chiamata la Valle Santa, per la presenza di ben 13 monasteri. Dopo aver percorso un breve e facile percorso in salita, si arriva davanti al monastero, totalmente aggrappato alla parete rocciosa. Edificato più di mille anni fa, custodisce al suo interno la Grotta Sacro Speco, in cui il giovane Benedetto, a soli 16 anni, trascorse tre anni di vita eremitica. Ma un'altra particolarità lo rende unico. È conservato l'affresco di San Francesco, il più antico ritratto esistente del Santo di Assisi. Grazie alla sua costruzione a strapiombo sulla valle, è stato ribattezzato il Nido di Rondini.